Benvenuti a Il punto, la trasmissione di approfondimento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi non abbiamo il consueto confronto fra un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, ma come unica ospite la Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. Buongiorno. Con noi ci sono anche i colleghi Anna Mossuto, direttrice del Corriere dell'Umbria, e Claudio Sebastiani, caporedattore dell'Ansa Umbria. Con loro cercheremo di fare un consuntivo del lavoro svolto fin qui dall'Assemblea legislativa e un confronto anche sull'attualità politico-amministrativa. Io lascio lo spazio ai colleghi. Può cominciare Anna Mossuto. Presidente, l'Assemblea legislativa è rimasta più volte incartata su leggi anche importanti, vediamo l'ultima, quella contro l'omofobia, dove è stata costretta a rinviare l'atto in commissione e poi è stata approvata, tra mille polemiche, anche qualche spaccatura all'interno del partito di maggioranza, quindi di diviso, e la maggioranza che non ha dato certo prova di compattezza. Un suo giudizio? Allora, intanto su questa legge va detto che non è stata rinviata in commissione, ma semplicemente nel momento dell'iscrizione avvenuto nel 2017, quando la legge era stata licenziata nel 2016, diciamo completa di norma finanziaria, eccetera, non c'è stato l'adeguamento della norma finanziaria. Un fattore tecnico, un tecnicismo che ha, diciamo, in quell'occasione, visto la necessità di non discutere l'atto e adeguare la norma finanziaria senza il passaggio in commissione che veniva reclamato dai colleghi della minoranza, ci siamo mossi così, e per poi procedere alla discussione nella seduta successiva. La seduta successiva, lei ricordava una spaccatura, in realtà abbiamo avuto alcune assenze che non ci hanno garantito il numero, e quindi la minoranza ha approfittato della situazione per farci andare sotto con i numeri, e abbiamo proceduto all'approvazione della legge esattamente nella terza volta. La spaccatura c'era quando sul emendamento smacchi il partito se l'ha diviso? Sì, inizialmente su quello c'è stata una reazione, a mio avviso esagerata, di chi quel emendamento non lo leggeva come un'opportunità per dare, diciamo, risposte e garanzie anche a parte della comunità che amministriamo, che rispetto agli aspetti e agli articoli di questa legge si sentiva in qualche maniera poco tutelato. Io credo che l'emendamento così poi come è uscito dalla discussione, dalla sintesi, che siamo stati in grado di fare in tre settimane piuttosto intense, perché poi il dibattito è stato veramente intenso e a mio avviso a volte noi vecchiamo nel portare le nostre riflessioni e le nostre, diciamo così, valutazioni anche estemporanee sui social come se fosse una stanza nella quale si può dibattere con quella libertà. Poi in effetti nei social tutto quello che diciamo viene amplificato e viene anche in qualche maniera strumentalizzato. Io consiglio sempre, forse perché sto diventando saggia, non lo so, però un uso un pochino più attento anche di questi strumenti, che non voglio assolutamente negare, anzi sono un potentissimo e uno strumento efficace per poterci connettere con la nostra comunità. Però dico pure che certe valutazioni fatte sull'onda di una emotività o magari perché uno non si aspettava una determinata reazione o un determinato, diciamo, così atteggiamento potrebbero essere evitate e darebbe a tutti noi la possibilità di risolvere le nostre questioni in maniera un pochino più composta. Sebastiani. Sì, Presidente, rimaniamo magari su questo discorso della legge all'omofobia perché al di là del dibattito politico che si è sviluppato in aula c'è stato un confronto serrato di quella che si chiama la società civile con prese di posizioni da parte del mondo della Chiesa, delle organizzazioni omosessuali e lesbiche. Insomma, pensate di aver trovato il giusto punto di caduta per dare risposte ai diritti di entrambe le parti? Io credo proprio di sì. La legge così come è uscita, credo che sia una legge che garantisca i diritti di chi reclamava giustamente un riconoscimento più che altro della possibilità di non cadere nelle discriminazioni che si possono generare facilmente in tutti gli ambiti della nostra società. Io vengo dal mondo della scuola e molto spesso si tende a punzecchiare, a sottolineare alcuni atteggiamenti allora questa legge non infligge né pene né sanzioni, quindi voglio dire rimane di per sé un fatto diciamo così, vogliamo pure dirlo ideologico, mi sta pure bene, però che si lavori sulle discriminazioni sulle discriminazioni tutte, a mio avviso sarebbe stato più giusto fare forse una legge, un testo unico sulle discriminazioni perché da qui a poco mi sono fatta veramente carico di un'altra grande realtà che è quella dei problemi legati al cyberbullismo perché non è vero che noi non possiamo prendere in considerazione una casistica che comporta denunce molto basse, perché anche sul tema dell'omofobia quello che veniva in qualche maniera lamentato da parte di chi era contro questa legge diceva dove sono i casi di denuncia, dove io ho più paura del sommerso che di quello che invece appare perché è quello che mi spaventa e comunque al di là di tutto nelle regioni dove questa legge c'è quali sono gli effetti negativi da prodotto? Questa è la domanda che io vorrei rovesciare a chi in qualche maniera ci attaccava di fare una legge che in qualche maniera toglieva la possibilità di esprimersi su alcuni concetti. L'emendamento proposto dal consigliere Smacchi credo che abbia in qualche maniera riequilibrato la possibilità di potersi esprimere liberamente su quello che può essere il concetto di famiglia su quello che può essere le proprie, le legittime idee di ciascuno senza però travaricare e permettere a chiunque diciamo di esprimersi in maniera discriminatoria che è un fatto più di prevenzione e di educazione che di altro. Questo mi sento di dire. Prego Anna. Presidente ci avviciniamo a metà mandato. È un bilancio molto ovviamente veloce di quanto avete fatto, di quante leggi avete prodotto, di cosa ha fatto l'assemblea legislativa e poi abbino a questa domanda un'altra che è più ovviamente una curiosità ma la staffetta c'è oppure no con un suo vicepresidente? Questa domanda non la deve fare a me, comincio dalla staffetta, no? Perché sono... Che fa da tutto il mandato insomma? Non lo so, non lo so, minimamente io non sapevo neanche di fare il presidente del Consiglio quando abbiamo iniziato, neanche dopo le elezioni, quindi lo sa benissimo, quindi... No, non lo so quello che succederà. Questo nostro regolamento prevede che a metà mandato può esserci una staffetta, può esserci una riconferma, adesso non è questo il problema, ma io credo che il problema che noi ci dobbiamo porre è di come abbiamo amministrato in questi due anni, di quale è stata un po' la nostra attività nei confronti di una regione che sappiamo essere una regione che soffre, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, l'evento del terremoto ha sicuramente, diciamo così, cambiato e disorientato i piani che erano stati fatti. Una regione che rispetto a questo sisma si è trovata ad affrontare e se l'avevo dichiarato nel mese di novembre quando andammo con i miei colleghi delle altre tre regioni coinvolte nella situazione del sisma in audizione alla Camera, per noi, avevo detto, i danni indiretti saranno sicuramente più forti di quello che potranno essere nelle altre regioni. Non abbiamo una costa, non abbiamo il mare, non abbiamo città della portata della Capitale, che possono essere sotto il profilo dell'attrazione turistica un forte richiamo e questo è stato per me da subito un grande campanello d'allarme, per cui tra le tre cose che ho chiesto in quell'audizione dissi servizi non in deroga per un periodo straordinario, cioè non per un periodo ordinario ma per un periodo straordinario, perché? Perché ritengo che alcune situazioni legate per esempio alla viabilità, al mondo della scuola, eccetera, rappresentano una discriminante importante per poter decidere di vivere o non vivere in certi territori a prescindere. Il terremoto ha posto un aggravante in queste situazioni. Quindi servizi, lavoro e la valutazione del danno indiretto che sicuramente ha causato tanti problemi alle nostre attività, lo vediamo girando per l'Umbria dove anche in queste festività pasquali il segno della ripresa è molto timido, tiepido e ci sono non soltanto le strutture alberghiere che soffrono, ma tutto il mondo e l'indotto che è connesso a questo. Per il resto la nostra attività non si può fermare perché la nostra attività come regione, dicevo appunto, non si può e non si deve fermare perché è vero che il terremoto è stato uno scossone importante che ha impegnato l'esecutivo, la struttura e parte anche della nostra attività consigliare, ma abbiamo una marea di problemi sul campo e una regione che ha bisogno di affrontarli con maggior determinazione e maggior coesione, questo lo dico. Scusa Presidente, la prima parte della domanda della collega era riferita al consuntivo dell'attività svolta, non so se interpreto bene, se mai interviene, se si riferiva anche ad una valutazione sulla funzione svolta dall'Assemblea legislativa e il rapporto con l'esecutivo. Non so se era questo. Sì, è un bilancio di metà mandato quasi, ci stiamo a fare se l'Assemblea legislativa ha prodotto o si poteva fare di più. Sicuramente si poteva fare di più. Quali sono stati atti qualificanti? Intanto dicevo appunto, parte di questi atti hanno toccato il tema del terremoto e questo ha un po' stravolto la nostra programmazione. Poi ci stiamo muovendo con una certa rapidità sui testi unici che andavano ripresi anche dopo i contenziosi che erano emersi, quindi abbiamo approvato quello sull'urbanistica. Ci siamo mossi su quello che era un po' il calendario che ci eravamo dato e su quello credo che abbiamo rispettato un po' il nostro cronoprogramma. Su questo devo dire che mi abbiamo ripreso a marciare in maniera determinata. È un bilancio tutto sommato positivo, lo voglio dire. Le leggi poi di iniziativa da parte del Consiglio sono leggi che hanno riguardato prevalentemente i temi come appunto quello della ludopatia, come abbiamo prodotto il testo unico sul sociale. Quindi ci sono state materie importanti che sono arrivate, diciamo, che sono approdate in aula e che hanno visto un lavoro anche sinergico tra le commissioni e l'esecutivo. Di questo non posso lagnarmi. Devo anche dire però che spesso il lavoro in aula è stato, diciamo così, un po' turbato dalle presenze. Noi abbiamo assessori che sono anche consiglieri e che quindi a volte per chiamate urgenti che arrivano all'ultimo minuto al di là della nostra convocazione e alla nostra calendarizzazione dei consigli possono non essere presenti e questo a volte causa delle difficoltà. Signor, ritornate sul tema del terremoto. Proprio ieri la Presidente Marini ha annunciato una legge sulla ricostruzione con l'intenzione di approdare in aula e quindi definirla entro giugno o entro l'estate. Come pensate di organizzare i prossimi mesi? Pensate di arrivare a una definizione... Io credo proprio che ci arriveremo. Insomma, tutti i consiglieri su questo sono sempre molto disponibili. Abbiamo dato veramente una grande priorità al tema del terremoto consapevoli del fatto che dobbiamo dare delle risposte immediate. Ci sono delle situazioni che oltre non possono andare. In questo terremoto, se mi permettete, forse tra le regioni che hanno affrontato la situazione siamo stati quelli che sono riusciti a dare risposte un pochino più celeri rispetto agli altri. Vuoi che partivamo da una situazione completamente diversa? Noi non abbiamo avuto vittime e questo ci ha permesso di immergerci subito nell'attività. E poi, per quello che riguarda la gestione complessiva, mi sento di dire che forse se avessimo avuto più in mano libera avremmo fatto ancora di più. Prego, Anna. Da qualche tempo, da qualche mese, la magistratura ha puntato l'attenzione sulle spese cosiddette leggere dei gruppi consigliari, incentrate sugli anni precedenti a questo mandato. Ci può assicurare che ora le cose sono tutte in regola? Guardi, dal 2012 vengono fatte delle verifiche sistematiche di anno in anno e quindi io, per quello che ho potuto registrare in questi due anni che ho svolto il mio ruolo, ho ricoperto questo ruolo, ci sono stati dei piccoli appunti, ma sciocchezze proprio irrilevanti. Mi permetto in questi mesi in la gestione. Ma guardi, allora, non credo che ci siano stati particolari problemi, al di là di alcune vicende dove forse si è andato un po' oltre quello che si poteva e si doveva fare all'interno di un'aula. Io dico che il confronto può essere acceso, può essere vivace, ci si può accusare reciprocamente di non essere coerenti, però in aula certi atteggiamenti li avrei evitati. Ecco, ho avuto modo di dirlo anche in forma privata ai miei colleghi perché credo che comunque nel momento in cui noi sediamo su quegli scranni dovremmo sempre ricordare che stiamo rappresentando un'istituzione. Il rispetto per le istituzioni, che è giusto pretendere dagli altri, ma non perché siamo noi in questo momento a sederci su questi scranni, ma perché è giusto che ci sia rispetto per le istituzioni, lo dobbiamo dimostrare in primis noi e quindi potremmo anche non essere d'accordo, non accettare una decisione, non accettare un parere che viene fornito dagli uffici preposti, però gli uffici non è che sono competenti, bravi, solo quando ci danno ragione. Io ho sempre detto ai miei collaboratori preferisco qualche no e vi esorto a dire dei no, piuttosto che dei sì che poi ci possono mettere tutto in imbarazzo e questo è credo il rapporto più corretto che ci possa essere tra chi ricopre un incarico politico e chi nell'istituzione svolge un ruolo tecnico, deve essere tranquillo, capace di poter dirci tanti no, quanti ne servono per poterci far fare meno errori possibili. E sempre in quest'ambito, per concludere il discorso, qualche volta le critiche su un'eccessiva lunghezza di alcuni iter sono state avanzate? Beh, sulla legge dell'omofobia sicuramente lì sono stata, diciamo così, più volte ripresa perché la legge era stata licenziata diverso tempo fa dalla Commissione, però siccome sapevo che c'era un dibattito ancora aperto e soprattutto avevamo anche dato delle priorità ai temi in discussione, è evidente il terremoto ha messo tutto in secondo piano, nonostante le richieste, le pressioni e la volontà di fare. Ero sicura che questa discussione avrebbe assunto i toni che ha assunto, quindi un po' immaginavo, non ero riuscita a pronosticare le tre sedute, però sicuramente non era una materia da poter mettere insieme al terremoto, insomma non mi sembrava neanche corretto e quindi mi sono presa la responsabilità di forse prorogare un pochino troppo i tempi, però credo che poi alla fine ci sta tutto. A proposito di tempi, un altro atto atteso è quello sulla riforma della macchina dirigenziale della Regione con la rotazione del direttore, l'introduzione di una figura apicale, quello che è stato poi il compromesso per una crisi di giunta che si era verificata un anno fa, quindi con il rientro in giunta dell'assessore alla sanità, quindi la pace è fatta tra le due componenti. Quest'atto è stato preadottato dalla giunta ma non è ancora arrivato in consiglio, perché questo ritardo? Questo non lo deve chiedere a me. E che valutazione dà di quest'atto? Ma io credo che sia un atto attraverso il quale la macchina della Regione può assumere una nuova, diciamo, un nuovo disegno, una nuova configurazione che le potrà permettere di marciare spedita verso gli obiettivi che deve raggiungere. Anche noi come consiglio siamo in attesa di una ristrutturazione, per il momento ci siamo mossi semplicemente riassegnando le deliche dirigenti, cambiando la figura del segretario. Tanti lamentano questa lentezza nel procedere, però ci troviamo di fronte a cambiamenti importanti. Secondo me le nostre strutture, così come sono, e lo dico per un consiglio dove abbiamo più o meno 100 dipendenti, quindi non è una struttura elefantiaca, è una struttura piuttosto snella, nella quale io ho ravvisato e ho condiviso sia con il segretario che con il dirigente al personale la necessità di cominciare a promuovere un modo diverso di lavorare, meno legato agli ambiti e ai compartimenti stagno che spesso si creano per le materie che ci vengono assegnate e cercando di sperimentare, di promuovere una sperimentazione che porti a una progettualità trasversale per cui le competenze di un servizio devono necessariamente essere messe in relazione a. e quindi nel tentativo di fare una cosa forse un po' ambiziosa e sicuramente innovativa che può generare anche qualche perplessità in chi la dovrà applicare, abbiamo messo in piedi un sistema di formazione chiedendo anche alle commissioni di non lavorare nei giorni in cui la formazione avrà luogo perché nella formazione io ho sempre creduto in tutti i contesti, a tutta l'età e tutti gli ambiti che ci possano consentire di acquisire metodologie nuove capaci magari di superare quei nostri modi di fare che sono un po' il frutto di un'abitudine, di una consecutine, non per questo sbagliata, assolutamente, anzi molto spesso dalla formazione si esce consapevoli e convinti che quello che stiamo facendo è quello che va fatto, insomma, quindi, no? Questo è un po' il senso e quindi credo che anche la Giunta si muoverà un po' nella direzione di modificare qualcosa. Prego. Come avevamo detto, il terremoto, danni diretti e indiretti sono il tema centrale di questo momento, però c'è comunque una regione che è in movimento, una regione con altre aree, altri problemi. Avete in mente già un programma di provvedimenti da discutere nell'Assemblea legislativa? Come pensate di intervenire sul resto della regione al di là del tema più importante del terremoto? Beh, abbiamo diversi temi. La prossima settimana lavoreremo con una seduta dedicata quasi completamente, dico quasi perché il question time lo manterremo, sul tema dei temi legati all'ambiente e i verterni, perché questa è un'esigenza sulla quale dobbiamo veramente concentrare un po' dei nostri sforzi per capire cosa è stato fatto in precedenza, cosa si può fare adesso, quali sono le nuove esigenze che si stanno manifestando. Io quello che vorrei è che si mettessero da parte tutte le rivendicazioni del passato e si provasse veramente a dire tiriamo una linea e proviamo ad andare oltre, perché ci sono problemi molto importanti sui quali non si può derogare. Poi, come dicevamo, il tema del lavoro è un tema sul quale dovremmo concentrare le nostre energie. Le misure dei finanziamenti europei sono misure importanti che ci consentono di dare ossigeno a molte attività, in modo particolare alle attività del settore dell'agricoltura, dell'agroalimentare in generale, e che è un settore dal quale ci si aspetta tanto per far ripartire e anzi proseguire quella attività che, viva Dio, è una delle poche che funziona molto bene nella nostra realtà. Quindi, con questi temi legati a un'attenzione molto forte al mondo dei giovani, ma senza perdere di vista il fatto che ci sono persone che hanno perso il lavoro e che sono persone 45-50 anni che hanno bisogno di ricollocarsi. Quindi anche le misure che sono state previste sul tipo di garanzia a giovani e adulti per dare una chance a chi vuole assumere e qualificare personale che viene da esperienze lavorative e altre, in attesa poi magari di una auspicata stabilizzazione, sono i temi sui quali stiamo concentrando le nostre attività e sui quali vedo che le commissioni lavorano in maniera molto serrata. Prego, Anja. Faccio sempre il ruolo della cattiva, parliamo sempre dei costi della politica, no? Sono solo 10 le regioni in Italia che hanno applicato l'autoriduzione sui vitalizi. L'Umbria non è fra queste, nonostante avesse votato nel 2014 all'unanimità, insieme con le altre regioni, un ordine di giorno per abbassare i vitalizi. Perché questo ritardo e questa incoerenza, soprattutto? Allora, intanto... Una piccola cosa, ci riferiamo al contributo di solidarietà, cosiddetta solidarietà. Una riduzione temporanea doveva essere di un anno. Sì, su questo tema posso dire che nel 2014, nell'ottobre del 2014, appunto la conferenza dei presidenti votò all'unanimità questo provvedimento che doveva avere una durata triennale, no? E che prevedeva appunto una contribuzione sulla base del reddito che ciascun consigliere, ex consigliere, percepiva. Quindi era, mi pare, tarata su tre scaglioni, se non vado errato. Su questo, 10 regioni hanno provveduto subito a, diciamo, promuovere la legge. Proprio di recente abbiamo scoperto che la legge che il nostro, la nostra precedente, diciamo così, ufficio di presidenza aveva promosso, non è stata poi approvata. Quindi sarà nostra cura di prenderla velocemente e riportarla in aula perché con questo noi ci metteremo anche in linea con quanto fatto dal Parlamento e credo che sia un atto importante sul quale dover intervenire. Sicuramente non tutti gradiranno questa scelta, tanto più che viene da consiglieri che non percepiranno mai il vitalizio perché noi apparteniamo alla nuova generazione di consiglieri che vedono l'Umbria tra le regioni che li hanno definitivamente aboliti senza tra le altre cose prevedere nessun altro tipo di contribuzione particolare. Credo che sia un provvedimento giusto fatto da chi ci ha preceduto perché... Siete diventati cittadini normali, insomma. Io penso di esserlo sempre stato, un cittadino normale, quindi... Come tutti i politici, insomma. Come tutti i politici. Bene, se hai una cosa breve, poi un'ultima cosa in chiusura. Nel senso, questa è una stagione... Sono mesi caratterizzati dalla stagione congressuale del PD. Qualche riflesso c'è stato anche all'interno dell'Assemblea Legislativa, penso all'uscita dal gruppo del Consigliere Solinas. Come vede la corsa la Segreteria dell'EPD nazionale e che riflessi, se pensa, ce ne possano essere sull'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Mi sembra che ormai, no, per come siamo messi dopo il risultato dei circoli, ma per quello che avevamo già previsto la riconferma di Renzi sia piuttosto scontata. Sulla fuoriuscita, io devo dire... Lei è contenta della riconferma di Renzi? Sì, sì, sì. Io non sono stata la renziana della prima ora e lo ricordo come fanno invece i colleghi che lo sono stati. Ma io sono una persona sempre molto misurata. Non mi infervero mai sulle persone, mi piacciono più i progetti, le idee. Quindi devo dire che la stagione di Renzi è stata una stagione molto importante per il nostro Paese. Dalla quale però dobbiamo aver imparato qualcosa, sicuramente. Perché l'esito del referendum ci ha in qualche maniera consegnato una realtà e una risposta a una voglia di cambiamento profondamente ingiusta. Quindi qualcosa nel comunicare abbiamo sicuramente sbagliato. E siccome io sono convinta che chi fa ammenda dei propri errori e chi riesce in qualche maniera anche a prendersi in carico le responsabilità può darci la soluzione e la spinta per ripartire con umiltà, con determinazione verso quei traguardi che dobbiamo assolutamente comunque raggiungere. Abbiamo perso un treno ma ne passeranno altri. Rispetto al referendum, dico questo. Sui riflessi rispetto all'Assemblea, beh, e allora, le fuoriuscite. Io non sono per andarmene quando le cose non mi piacciono. Sono stata molto spesso minoranza all'interno dei gruppi politici nei quali ho militato e la cosa non mi ha disturbato, non mi ha causato nessuna difficoltà. Dico che le questioni vanno di battuta al nostro interno. sicuramente un PD con i fuoriusciti sarebbe stato un PD più forte, capace anche di forsi meglio rispetto a uno. Un'ultimissima, prima di chiudere, sollecitazione, domanda alla Presidente. Questa trasmissione andrà in onda in prossimità delle celebrazioni del 25 aprile 72esimo all'Universario della fine della guerra e della liberazione dell'Italia. Brevemente, un messaggio rivolto specificatamente ai giovani. Beh, noi i messaggi ai giovani li mandiamo spesso e siamo soliti accoglierli. Il messaggio è che vivano questa celebrazione non soltanto come una rievocazione, veramente, ma come una forte eredità che ci è stata lasciata e che dobbiamo in qualche maniera salvaguardare. Bene, per oggi è tutto. Ringraziamo i nostri ospiti, Anna Mossuto, direttrice del Corriere dell'Umbria, Claudio Sebastiani, capore d'astore dell'ANSA Umbria e la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi. Arrivederci alla prossima trasmissione.